Immaginiamo una calamita che si trova attaccata a un piano verticale, per esempio una lavagna metallica. La calamita è premuta contro questa parete, contro questa lavagna, dalla forza magnetica. Vogliamo sapere quanto è intensa questa forza magnetica. Possiamo calcolarla in questo modo. Tiriamo la calamita con una corda e quindi con una forza, per esempio, da 25 N. E misuriamo l'accelerazione del sistema. Vediamo che la calamita accelera verso l'alto con 1,2 m al secondo quadrato. La calamita ha la massa di 2 kg e durante la risalita subisce anche la forza d'attrito, che è una forza d'attrito dinamica. Un attrito dinamico perché la calamita è in movimento contro la lavagna. E immaginiamo di conoscere il coefficiente d'attrito dinamico 0,20. Con questi dati noi possiamo calcolare la forza magnetica che preme la calamita contro la lavagna. Tra l'altro la forza magnetica è anche la forza normale ed è responsabile del fatto che nasce l'attrito dinamico. Infatti la forza d'attrito nasce proprio perché quando un oggetto viene premuto contro un piano, in questo caso il piano è un piano verticale, e più viene premuto forte questo oggetto dalla forza normale, che qui è la forza magnetica, e più la forza d'attrito sarà intensa. Infatti la forza di attrito sappiamo che si calcola moltiplicando il coefficiente d'attrito per la forza normale, che qui è la forza magnetica. E sarà proprio dalla misura della forza d'attrito che noi potremo risalire poi alla forza magnetica, che appunto è la forza normale che preme la calamita contro la lavagna e fa nascere la forza d'attrito. Dunque la nostra incognita è come se fosse la forza d'attrito dinamico. Dobbiamo scrivere la legge di Newton applicata a questo sistema. Questo sistema lo possiamo anche vedere come composto di due oggetti. Uno è la calamita, l'altro è un oggetto immaginario, sarebbe l'estremità della corda. È un oggetto di massa nulla, è il punto B. Però è utile immaginarlo come se fosse un punto materiale, anche se la massa è nulla, per poter ragionare e così scrivere due equazioni di Newton anziché una. Infatti a questo punto gli oggetti sono due. C'è la calamita e c'è questo punto B di massa nulla. Siccome sappiamo poi che il sistema si muove verso l'alto e verso destra, la cosa più naturale è seguire con la convenzione dei segni il modo del sistema. Quindi questa forza da 25 N sarà positiva, la tensione della corda che nasce qua sul punto B sarà negativa, l'altra tensione che nasce all'altra estremità della corda sarà positiva e invece la forza peso della calamita, 19,6 N, sarà negativa. E lo stesso anche l'attrito dinamico sarà negativo. Quindi queste sono tutte le forze sul sistema. Cominciamo allora a scrivere la legge di Newton partendo proprio dalla calamita. La forza totale su di lei è la somma algebrica di tre forze, questa con il segno più e queste due con il segno meno. Quindi la forza di tensione meno Mg e meno la forza d'attrito dinamico. E per la legge di Newton è questa forza totale uguale alla massa della calamita, M, per la sua accelerazione. Passiamo quindi all'altro oggetto immaginario, perché in realtà la sua massa è nulla, cioè il punto B. È sottoposto a due forze, quindi la risultante è questa positiva meno l'altra, quindi 25 N, la forza F meno la forza di tensione, uguale M per A del punto B. Ma siccome non ha massa, questa quantità al secondo membro si annulla. E questo ci permette di dire che la forza con cui noi tiriamo e la forza di tensione sono uguali opposte a F uguale a Ft. Quindi questa seconda equazione in realtà è servita soltanto per dire che queste due forze hanno la stessa intensità. E quindi è come dire che questa forza F da 25 N si trasmette direttamente sulla calamita. Infatti noi andiamo a sostituire questa forza di tensione con la forza F da 25 N. Facciamo questa sostituzione e lavoriamo soltanto sulla prima equazione di Newton. Quindi non abbiamo più forza di tensione, ma abbiamo la forza F da 25 N, tanto sono uguali meno Mg e ricopiamo. A questo punto tutti i valori in questa equazione sono noti tranne la forza di attrito dinamico. Quindi possiamo ricavare questa forza di attrito portandola a destra e scrivendola nella forma Kd per la forza normale, che è la forza magnetica. Quindi la forza di attrito dinamico è Kd per la forza magnetica, la portiamo a destra. Invece a sinistra rimane la forza da 25 N, meno Mg e poi anche meno Ma. Però Mg meno Ma possiamo raccogliere M e quindi diventa M per G più A, in quanto il meno l'ho messo davanti. Forse ho fatto un po' confusione, quindi ricominciamo da quando portiamo a sinistra Ma. viene meno Mg meno Ma. Raccogliamo sia il meno sia la massa della calamita, meno M, e quindi rimane G più A. A questo punto sono tutti noti questi valori perché la massa è 2 kg e la somma di G più A, 9,8 più 1,2, fa 11 m al secondo quadrato. Il coefficiente di attrito dinamico lo conosco è 0,20. Finalmente posso calcolare la forza magnetica. Basta fare questo calcolo. 25 meno 22 sono 3 N, quindi 3 N uguale 0,20 per la forza magnetica. La forza magnetica è 3 N diviso 0,20, cioè è 15 N. Abbiamo così calcolato la forza magnetica, conoscendo la forza con cui tiriamo la corda, 25 N, e l'accelerazione del sistema e anche il coefficiente di attrito dinamico. Voglio ripetere un attimo la novità di questo esercizio. La novità è che l'estremità della corda si può immaginare come un punto senza massa. Applicando la legge di Newton a questo punto senza massa viene fuori che queste due forze, F e la forza di tensione, sono uguali opposte. E questo sarà utile per sostituire la forza di tensione sulla calamita con la forza da 25 N, come se questa forza fosse applicata direttamente sulla calamita.